...all'altra sorpresa, ok, allora, sia chiaro che i miei balli non sono riconosciuti a livello professionale, per quanto amati e con la passione praticati. Adesso abbiamo una sorpresa, quella con i fiocchi, riconosciuta a livello nazionale e mondiale. Allora, premiati al Salone d'Onore del CONI per i risultati ottenuti in campo internazionale nell'anno 2013, campioni 2013 a crediti della Nazionale Italiana Danza Sportiva. Abbiamo qui il piacere di avere fra voi Pianese Vincenzo e Pagnieri Francesca Pia. Un grande applauso! Una raccomandazione anche ai bambini, non occupiamo questo rettangolo che venite vuoto! Ne hanno bisogno! Grazie! 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Un applauso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.